Apprezzamento da parte della stampa, del pubblico che ha riempito sempre di applausi le nostre iniziative perché questo è quello che chiedono gli artisti, quella gratificazione allo spettacolo, alle emozioni che vi regalano e quindi con la stessa emozione che questa sera ci apprestiamo a vivere un altro bellissimo spettacolo nella nostra città quindi dopo la prosa vi aspetto ancora per le Sera Puberdiane prossimamente e poi torneremo, insomma, lasceremo che questa città poi viva i suoi riti della tradizione, la festa patronale e noi ci ritroveremo dopo per continuare ancora con questo cartellone fino alla fine di settembre. Grazie.